Torna alla vittoria il Pineto che batte 2-1 la Savignanese al Mariani Pavone e riscatta la battuta d'arresto di Matelica. Assenze dall'una e dall'altra parte, Amaolo costretto a rinunciare a Cercelluti, Remo e Stefano Amadio sceglie Sciba tra i pali, inserisce Marini in difesa, mentre in avanti Cruz e Fratangelo sostengono Tomassini riferimento avanzato. Farneti con Vandi e Peluso squalificati e Brighi e Scarponi infortunati si affida a Ballardini e Riccardo Manuzzi a centrocampo, mentre in avanti Longobardi è supportato da Francesco Manuzzi e Noschese. Il Pineto approccia bene la gara e si fa subito vedere al terzo buon affondo di Fratangelo che scodella in area dove però nessuno è pronto alla deviazione. Dopo due minuti ancora una buona occasione per passare in vantaggio, ma Esposito sul secondo palo non riesce ad agganciare, fallendo l'opportunità. La reazione della Savignanese al dodicesimo con la punizione di Turci che trova il colpo di testa di Francesco Manuzzi sul quale Sciba si fa trovare pronto. Al diciottesimo ancora ospiti in avanti che si fanno pericolosi con un velenoso cross di Turci che attraversa tutta l'area. Sul proseguo dell'azione Ballardini tenta la rovesciata e resta a terra. Al ventitreesimo il centrocampista è costretto a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto entra Guidi. Passano due minuti e i romagnoli sfiorano il vantaggio in contropiede. Francesco Manuzzi lancia Noschese che in diagonale tutto solo non c'entra il bersaglio grosso. Il risultato si sblocca al quarantatreesimo quando Fratangelo affonda sulla sinistra e serve Tomassini. La sponda del centravanti per Esposito che dapprima assaggia i riflessi di Pazzini per poi ribadire in rete il vantaggio biancazzurro. Immediata la risposta romagnola con la conclusione da fuori di Noschese disinnescata da Sciba. Si va così al riposo sul parziale di 1-0. In avvio di ripresa Amaolo sostituisce Orlando con Capitan Pomante che si rivelerà decisivo. All'ottavo ancora Fratangelo si accentra e va alla conclusione ma trova il muro della difesa. Al tredicesimo il pari dei Romagnoli. Il direttore di gara Bonacina ravvede un fallo di Maria Neschinaria su Rossi e decreta il penalty che Longobardi non sbaglia per l'1-1. Passano tre minuti e il Pineto protesta quando Camplone va alla conclusione sulla quale Rossi si frappone col corpo. Vorrebbero il fallo di mano e biancazzurri ma non è dello stesso avviso il direttore di gara. Ancora Pineto al diciassettesimo con Fratangelo che tenta la girata ma nell'occasione chiede il cambio e viene sostituito da Di Rocco. Break della Savignanese alla mezz'ora con Turci che impegna Sciba. Ancora protesta e biancazzurri due minuti più tardi quando Esposito entra in area e viene toccato sul piede d'appoggio da Succi ma l'arbitro ben appostato facendo di proseguire. E' il preludio al gol del nuovo vantaggio pinetese che si concretizza al minuto 38 quando un esausto Marianeschi dalla bandierina pennella il cross per la testa di Pomante che così come all'andata si conferma bestia nera per i romagnoli. Nel finale ancora Marianeschi lancio di Rocco che apre per massa all'esterno da posizione defilata costringe Succi al salvataggio sulla linea. Ultima emozione del match per gli ospiti che al 48esimo spediscono alle stelle la palla del possibile pareggio. Il Pineto trova così con le unghie e con i denti la seconda vittoria del 2019 e tiene accesa la speranza playoff in attesa di affrontare mercoledì la trasferta di Iesi. Una vittoria importante e difficile perché non troviamo una squadra in salute che veniva da 6 risultati utili. Una squadra che ha la seconda migliore di forza del campionato. Sapevo le difficoltà di questa squadra infatti nella prima frazione abbiamo avuto qualche problema. Nonostante fossimo passati in vantaggio abbiamo subito il pareggio, avete visto tutti come è avvenuto. In quel momento la squadra ha avuto un grande carattere, una grande reazione. È considerato che per noi era la terza partita di una settimana, quindi c'erano problemi anche di freschezza fisica e mentale. Dopo magari la sconfitta è meritata magari di mercoledì a Mattela. Quindi ci voleva una grande prova di carattere, quindi posso far tanto un elogio ai ragazzi che hanno portato via tre punti in modo meritato, lottando su ogni pallone come piace a me. Quindi una squadra che ha giocato anche con il cuore e ha portato a casa una vittoria importantissima in questo momento del campionato. In questa fase dove ci troviamo a affrontare partite ravvicinate nel giro di due o tre giorni, quindi le vittorie ti aiutano un po' a lavorare meglio e preparare con magari più accuratezza anche le prossime sfide. Non è il momento di guardare alla classifica. Adesso noi dobbiamo giocare di partita in partita e recuperare tutti gli effetti. Sapete che abbiamo fuori quattro giocatori importanti. I due Amadio, Mazzei che oggi ha fatto un piccolo spezzone al rientro e lo stesso Ciarcelluti. Noi dobbiamo tenere botte in questo momento, cercare di fare più punti possibile e sperando di recuperare questi giocatori che per noi sono giocatori importanti nel nostro organico. Poi più avanti vediamo dove siamo e gli obiettivi che ci possiamo dare. A tal proposito si è fatto male anche Fratangelo in corso d'opera. Come sta mister? Che problema ha? Ma ha avuto soltanto un problema di crambi, quindi non è un problema muscolare. Orlando forse era un po' affaticato e ha dovuto sostituire la fine nel primo tempo. Cose normali, quando giochi in partita avvicinate non c'è tempo per recuperare, per allenarti, per giocare. Poi occorre, come ho detto prima, sia freschezza fisica e mentale se va incontro a queste situazioni. Secondo me Fratangelo ha fatto una buona partita, infatti credo sia in meritata la nostra sconfitta. Però chi fa gol e chi vince alla fine evidentemente ha fatto qualcosa in più dell'altra squadra. Se no questo non accadrebbe. Direi che posso dire che è stata una partita equilibrata per tutti i 90 minuti, dove il fatto di aver fatto bene non vuol dire che noi meritavamo di vincere. Secondo me è stata una partita aperta a qualsiasi risultato. Quindi l'abbiamo affrontata in maniera dovuta. Una volta raggiunto il pareggio, secondo me potevamo anche fare qualcosa di più. E' venuto questo episodio sui casi piazzati, su quel calcio d'angolo. Abbiamo preso il gol, dove magari in quel momento lì pensavamo e speravamo di portare in porto il risultato dopo aver pareggiato. Però credo che nell'arco dei 90 minuti la mia squadra abbia fatto una buonissima partita. Avevate tante assenze anche voi, mister, alle quali poi si è aggiunta quella di Ballardini in corso d'opera. Come sta? Ha avuto un problema a ginocchio, ne avevamo diverse. Purtroppo il fatto di Ballardini dopo pochi minuti ci ha complicato. Più che nell'immediato, poi nell'arco dei 90 minuti, i cambi successivi, direi che nell'arco dei 90 minuti non avevamo grandi possibilità, non tanto per i giocatori che avevano panchino, ma per una questione di ruoli. Eravamo carenti in certi ruoli e nell'arco dei 90 minuti, secondo me, questo qui è un pochettino pesato.